No, è stata qui. Vai e tira subito! Subito male! Vai là Martina, sto qua. Certo. C'è Martina, vero? Era laggiù? C'è, c'è. Ok. No, perché subito va via, però era Anna quella che è. No, tutto il cuore. Dove si muove o no? Una c'è perché la si muove. Ehi, Sibane! Ehi, Sibane! Ehi, Sibane! Ehi, Sibane! Ehi, Sibane! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.